Mi trovo a Taranto nel pieno centro Umbertino in piazza Garibaldi proprio dinnanzi al museo archeologico al Martà e qui resta quel che resta del gazebo lo sportello del cittadino le informazioni turistiche, un tempo questa struttura dava giustamente informazioni turistiche appunto a chi arrivava a Taranto, era un turismo point importante, poi ci sono stati dei vari avvicendamenti un periodo in cui è stato completamente chiuso, ultimamente era stato dato in affidamento non so poi altri passaggi che ci sono stati, sta di fatto che ora la Taranto tanto strombazzata da Melucci, dal vice sindaco e assessore allo sviluppo economico Manzulli, guardate ha una struttura comunale completamente abbandonata, chiusa, un info point per il turismo abbandonato con tanto di vetrata rotta, certamente per causa degli incivili, ma è normale una cosa del genere? Manzulli, è normale una cosa del genere? È normale che il turista venga a Taranto e non abbia un servizio di accoglienza? Penso soprattutto ai croceristi, scendono dalle navi e non sanno cosa dovranno fare, Manzulli ha detto ci daremo da fare, ci organizzeremo, creeremo una struttura di accoglienza, ma queste cose dovevano essere fatte già mesi e mesi e mesi fa, già dalla vostra precedente amministrazione e qui com'è possibile Melucci, Manzulli, che una struttura meravigliosa, fantastica come questa non abbia poi, non venga utilizzata? Rimane chiusa? Rimane abbandonata? È normale tutto questo? È ammissibile? È plausibile? Con la beffa della scritta informazioni turistiche il turista arriva e dice tutto chiuso, imparate, andate in altre città, girate, confrontatevi se volete con tutto il rispetto, vi pago io una vacanza, una settimana per Manzulli, una settimana per Melucci, offerta con affetto dal consigliere comunale Luigi Abbate, andate in altre città e vedete come si fa turismo, una cosa del genere, un'assurdità, una vergogna del genere, non la trovate da nessuna parte, la si trova solo a Taranto, un infopoint chiuso, abbandonato, nel pieno centro Umbertino, nel pieno centro Umbertino, viva Dio, davanti al Martà, davanti al museo, ma voi sapete cosa significa fare turismo? Vi manca l'ABC del turismo, l'ABC e vi sciacquate la bocca, le navi da crociera, Taranto capitale del turismo, ma vi rendete conto come amministrate in maniera pessima Taranto? Questa è la prova provata di quello che sto sostenendo, informazioni turistiche, uno legge, lo sportello del cittadino, nulla, tutto chiuso, tutto abbandonato a se stesso, nel pieno centro di Taranto, nel pieno centro di Taranto, ma era così difficile mettere un dipendente comunale, ma meglio ancora una cooperativa di giovani, mettere dei ragazzi, quanti laureati nel settore abbiamo? Avrebbero potuto dare tanto? Persone che conoscono le lingue, nulla, nulla, nulla e avete il coraggio di parlare di turismo, una sola parola, vergogna, esprime l'animo dei cittadini di Taranto e dei turisti nel vedere questo scempio, le cose vanno dette e ora lo dico da consigliere comunale, non più da giornalista, pretendo risposte, vi prenderò per il cravattino, metaforicamente parlando, non in senso letterale, sono una persona pacifica e non violenta, ci mancherebbe, ma qui si deve riaprire, o volete o non volete.